Emilia Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro. Questo è il nome della lista definita dai promotori di rottura che sostiene la candidatura di Federico Serra a Presidente della Regione Emilia Romagna. La lista riunisce nello stesso simbolo Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano. Tra i punti del programma anche un aspetto importante è quello legato alla sanità e quali sono le vostre idee? Assolutamente. La sanità è stata distrutta in 30 anni dalla destra e dalla sinistra che sta favorendo la sanità privata. Quindi immediatamente per dare una risposta ai cittadini va investiti tutti i fondi nella sanità pubblica. Non si può fare profitto sulla salute delle persone e va garantito il diritto alla salute oggi dimenticato soprattutto nelle periferie geografiche di questa Regione. Per quanto riguarda invece il tema dei trasporti e infrastrutture? Allora, trasporti va finanziato dal trasporto pubblico locale. Noi vediamo un processo di privatizzazione e di finanziarizzazione che produce appalti e subappalti nel trasporto pubblico locale. Le infrastrutture fermare e fare una grande moratoria sulle opere inutili di allargamento autostradale. L'unica opera deve essere la ricucitura del territorio per la messa in sicurezza a servizio dei cittadini. Grande attenzione anche al tema della sicurezza sul lavoro. Bisogna istituire il reato di omicidio sul luogo di lavoro. Destra e sinistra in 40 anni non hanno mai posto questo tema perché si difendono solo gli interessi delle grandi aziende che nel nome del profitto schiacciano la sicurezza e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Il patto per il lavoro e il clima in questa Regione è morto con la pietra tombale, con la morte di un ragazzo a Bologna per l'alluvione e con le due morti di altri due ragazzi operai di 30 anni alla Toyota. Quindi basta con queste chiacchiere, con questi patti fatti senza i lavoratori e le lavoratrici che vivono quelle condizioni e i sindacati che rappresentano questo tipo di stanze.